Il 15 alle 15. Non è un gioco di numeri, ma il nuovo appuntamento che si sono dati partiti, movimenti e liste del centro-sinistra per fissare il grande patto per le primarie. Un patto politico, perché in quell'occasione verrà siglato un'intesa, o meglio, un impegno comune in vista dell'avvio della campagna elettorale. Riconoscere il ruolo del candidato che uscirà vincitore dalle primarie e sostenerlo, senza sé e senza ma, nella prossima competizione due precondizioni per certificare la corsa comune verso lo stesso traguardo, la vittoria alle amministrative del 2024, della serie Patti Chiari Amicizia Lunga. Per conoscere nomi e cognomi dei candidati alle primarie, bisognerà attendere la fine del mese, il 28 o più verosimilmente il 29 settembre. Poi il Via alle Danze, in pista al momento dovrebbero esserci, oltre al sindaco sciente Carlo Salvemini, il consigliere comunale e coordinatore cittadino di Sinistra Italiana Pierpaolo Patti, sostenuto anche da PSI e Verdi, il vice sindaco Dem Sergio Signore non ha ancora invece sciolto la riserva, mentre appare assai difficile che Dario Stefano, leader della Puglia in più, possa decidere di gettarsi nella mischia. Il day delle primarie è fissato invece per il 29 ottobre. Guarda caso il termine ultimo delineato dal sindaco Salvemini nel momento in cui ha deciso di accettare di confrontarsi con gli altri candidati sindaco della coalizione. E solo una resa di conti hanno sentenziato gli esponenti di azione che si sono sfilati dalla contesa, alla quale, salvo cambiamenti dell'ultima ora, non dovrebbe partecipare Puglia Popolare, che continua a invocare la candidatura dell'assessore regionale Alessandro Dell'Inoci in rappresentanza di movimenti civici. La decisione definitiva sarà presa nel corso della riunione del coordinamento in programma giovedì sera.